Nella provincia di Barletta Andiatrani arriva Puglia Ethernet Free, la campagna regionale di informazione sul rischio amianto promossa da Lega Ambiente Puglia con il patrocinio dell'assessorato alla qualità dell'ambiente della regione e con la collaborazione del parter tecnico Teorema. Mirata alla rilevazione statistica di amianto nelle aree urbane, industriali e agricole, così come disposto dalla legge numero 257 del 92 e dal piano regionale amianto della regione Puglia che prevede tra l'altro l'abbio di un censimento obbligatorio. L'iniziativa è nata tra la partnership tra la provincia e Lega Ambiente presente alla conferenza stampa di lancio con il suo presidente regionale Francesco Tarantini. Distribuiremo a tutti i cittadini della regione Puglia, anche della provincia di Battano, dei diritti già a diversi comuni, questo opuscolo che informa sui rischi dell'amianto, un opuscolo che spiega in maniera semplice ai cittadini che cos'è l'amianto, dove si trova l'amianto, come riconoscerlo, cosa fare in caso di amianto e l'impatto sulla salute. Un impatto che continua ad essere pesante perché ogni anno muoiono 4.000 persone per l'esposizione a questa fibra killer. Oltre che informare i cittadini, questa campagna vuole dare anche un contributo concreto grazie al partner tecnico Teorema. A tutti i cittadini che lo richiederanno sia online, direttamente sui siti dei comuni che hanno aderito, o sul sito di Lega Ambiente o anche sul sito della regione, noi forniremo un sopralluogo tecnico gratuito che i tecnici diranno al cittadino qual è lo stato di conservazione dell'amianto e come intervenire, se incapsularlo, se rimuoverlo e poi compileranno, li faranno compilare questa scheda di autonotifica. Quindi il nostro contributo è anche contribuire al censimento delle piccole quantità di amianto, così come previsto dalla legge nazionale e dal piano regionale.